Una sanità in subbuio per le proteste, quella salernitana. Va avanti ormai da una settimana l'occupazione da parte dei sindacati della funzione pubblica dei locali di Vianizza a Salerno, mettendo a dura prova l'organizzazione della direzione generale, che è sul punto quasi di allentare la presa e provare a trovare un accordo. Discritto però non c'è ancora nulla e sul tavolo potrebbero essere aggiunte ulteriori condizioni. I rappresentanti dei lavoratori salernitani hanno incassato intanto l'appoggio delle segreterie regionali, che hanno chiesto un incontro urgente con il commissario ad acta. In una nota, CGL e Cisle Will Funzione Pubblica evidenziano la necessità di definire l'utilizzo dei fondi contrattuali per gli anni 2010-2014 e di definire un percorso che consente la ripresa della contrattazione integrativa aziendale. Per questo motivo hanno chiesto un faccia a faccia in regione alla presenza anche del manager squillante, ma se da Santa Lucia non arriveranno risposte, le segreterie regionali annunciano di intraprendere ulteriori azioni di protesta. In questo clima teso si inserisce anche l'agitazione dei 700 operatori addetti alle pulizie e alla logistica nei 13 ospedali dell'azienda sanitaria salernitana. Da mesi è in atto un tiro e molla sulla gara d'appalto, risolto con un pronunciamento del Consiglio di Stato. Dal 1 febbraio si dovrebbe cominciare il nuovo corso, ma i sindacati lamentano l'indisponibilità dell'Asla a confrontarsi sul modello di lavoro e sull'orario da adottare. I rappresentanti dei lavoratori stanno provando ad ingoiare la pillola relativa alla divisione dei servizi di ausiliarato e pulizia, affidati a due diverse aziende, nel primo caso il CNS e nel secondo la tedesca Dusman, ma sui carichi di lavoro si preannuncia battaglia. Il primo banco di prove è previsto per domani mattina, sempre in via Nizia, a Salerno.